Ladies and gentlemen, this is La Mirage, Melograno Schmoka. Secondo lei, la passione musicalmente non c'è più? Io direi, la cosa non capisce? Non sta a tirar su qua, madonna me. Sono colpevole. Ritornando alla sua domanda, signor commissario, penso che non abbiamo fatto niente di sbagliato. Lo confesso, ero ai piani con Sandro Damagnego. Passiamo alla seconda domanda. No, no, è vero, è vero ragazzi, che da un bel po' di tempo che non stiamo facendo un cazzo. Però questo giro, madonna me. Senti Becco, Flohane, Gammellograno. Siamo tornati carichi. Mamma!